Dopo tanta dedizione e allenamenti sono finalmente riuscita a vincere la mia prima solo cash cap su Fortnite e ci portiamo 100 dollari in the bank. Let's go! Ragazzone ragazzone, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video davvero incredibile. Come sapete sono ufficialmente tornata a fare i tornei su Fortnite ormai da un pochino di tempo e soprattutto i tornei in solo mi fanno letteralmente impazzire. E considerate che da quando faccio appunto i tornei in solo ho perso soltanto una qualifica, penso su una cosa come tipo 30 tornei. Quindi mi sono qualificata praticamente il 99,9% delle volte ma nelle finals non sono mai riuscita a fare una singola vittoria reale che è quella che appunto ti porta a fare 100 dollari. Mi ci sono sempre avvicinata tantissimo facendo anche top 3, top 4, top 5, top 6 ma non sono mai riuscita a concludere nulla però proprio l'altro ieri sono riuscita a fare la mia prima vittoria reale portatemi a casa 100 dollari nella cash cap e avevo come coach ragazzi la signorina Queen Georgia su Discord che mi faceva delle call veramente impeccabili e mi sono portata a casa una bellissima vittoria incredibile con l'iground in una maniera proprio... Quindi ragazzoni mi raccomando prima di cominciare con il video lasciate subito un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale ragazzi che vi ricordo che gratis non costa nulla ma mi date un enorme supporto e vi ricordo inoltre che mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17 quindi io vi aspetto e trovate il link in descrizione anche per quanto riguarda il mio merchandising ufficiale quindi non perdetevelo. Ora però ragazzi non perdiamoci in chiacchiere perché qua avete da godervi una bellissima vittoria in solo cash cap io vi auguro una buona visione La roba fuori, città Città nenne Buono! Ora però è una rosicata Ho visto spari Allora saranno sparando secondo me i droni Sicuro Sarebbero più costanti Colore La presa nera opaca Eccolo lì, no, è l'esterno, occhio Ma uno ha la pistola e l'altro ha la pistola, te lo giuro Non voglio chiare però voglio vedere un attimo la situa No, però stai attenta perché qua dietro i bush mi sa Ma questo è un'altra ancora, non c'entra niente Vedi adesso, tipo, la mitraglietta via però Come fai? No, 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 no Eh, non puoi, non puoi immagliare No, 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 non la lascio adesso perché No, no, no Eppure viola, ti servono i danni secondo me sto lì No, no, secondo me non si tirano i danni, te lo assicuro Però è tanto che se voglio prendere un refresh sono più tranquilla Qua sopra io starei attenta alla stazione Eh no, perché tanto questo qua verrà dalla stazione La tipa bionda verrà apparesemente dalla stazione Segura? Sì, sì, perché veniva dal cosa Se no, piccolo punto in cui puoi luotare qua sotto a destra dove c'è la ruspa di Salvini Hai ragione, Sator, non lo faccio mai, Sator, non lo faccio mai, lo devo fare Perché quando giochi nei ground sono un fenomeno Anche veramente Serve lei ground Per assicurare tu serve lei ground Sì, sì, serve assolutamente All'ho sparato back Ciao ragazzi No ragazzi, guarda Evitiamo Non fatemi usare l'uniconito per scappare Anche se, beh, poco mi serve però Vabbè, con l'animele tra lontani di brutto Eh, il bro vuole surgi Guarda un po' se c'è la cesta con la destra o sulla schia No, no, tutto l'uomo No, 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 quella più avanti era Dopo il ponte, diciamo, sulla destra Però è la presa, magari c'è la per terra del nitro Non so, se sempre, no, buona Oh, hoppò Uno, nitro Erano due Vabbè, meglio che niente, guarda Uno lo usano E se è più probabile che ne trovi due che tre Perché lo usano per... e lo scambiano comunque lo... No, no, questa zona è... C'è uno davanti, c'è uno davanti Ok, bravissimo No, no, ragazzi, quant'è da questa coach? Stai attento Dovrei pagarla, chat Occhio sinistra, in alto Forse più destra Sì, sì Occhio a questo che ti vuole davanti Brava, non cagarmi Vabbè Sì, questi... vabbè E ora, porco diaz Ma io aspetterei che si apra la safe a destra e ti jumpy con l'animello Sì, sì, ma infatti ora ci vado Quando si apre se... E che in teoria c'è un co***e questo box Boxati subito, eh Boxati subito, non andare troppo avanti Perché non hai shield Cioè, o jumpy uno ora Che almeno hai 170 E che devo già fare sto qua? Probabilmente uno sì Dai, dai Hai nitro Carica tutto il pompa subito tutto Cupola Ho giusto Ok Avanti Hai l'animella, ricordo? Braz Triple cap Hai 5 medici ti kick Letteralmente prendi danni Fatti i c***i tuoi Campi cent'anni Trasta Vai, vai, tu, vai, tu, va Hai visto? Buono, buono, buono Non c***o che c'hai tutto Bravissima Fatti il nitro prima Vai, subito Un'animella puoi usarla? Ok Guarda tu di scendere sotto Bravissima Cupola, mi raccomando Ok Non viva sulla 5-3-5 Stai messa bene Siete 28 Ancora tanti Forse Non lo so Davanti Recupere un'animella Bordissimo Sei No, no, ma le ho 3 Quindi jumpa Ok Non puoi carica Sarà l'uso Bravissima Nel box Forse Bravissima Sei safe Cilla Tieni timori Non fare c***e Ai due animelle Quindi in caso Corri da tutte le parti Tanto hai 5 Finisci fuori safe Chi se ne crega Dovrei salire Esatto Ok Hai 3 nitro Hai safe piena di mazze Quindi builda tranquilla Ora te li fallo Ok Tanto c'è lei in box Bra Bravissima Bravissima Oh Cupola sopra No, c'è la scala nemica 5-2-40 5-2-40 Buonissimo Porca Tutti Buonissimo Bravissima E' piena di armi Ok Può andare Adesso Bravissima Hai 9 kit Puoi veramente Se lo vedi like Puoi veramente tentarlo Animella Nei una per like Te lo dico già Occhio uno sale Non t'ha visto Non t'ha visto Bravissima Ora secondo sicuro scende In caso un kit 12 alive Hai 60 capi Non so quando ti devi fare i kit Questo non te lo so dire Quindi stai attenta Animella ce l'hai Quindi se ti fanno cadere Non devi per forza usare il nitro Questo potrebbe salire Ma si fightano e si ammazzano Godo Si buttano giù 8 build Occhio C'è medaglione sotto Potrebbe fare il pazzerello Ok 5 alive Inizieranno i kit Dopo questo hai 8 kit Animella devi essere pronta A spostarti Farti un box E farti kit Brava sei sotto Shift Se non vedi i passi Non so dove sei È un'animella ricordo Top 3 Non possono avere tutti Sti Hai ancora un nitro Ora se devi gioinare Cattiva Medaglio Ok c'è quello lì Lì sotto Occhio Potrebbe gioinarti Ancora il kit Guarda qui torna Se vedi i kit Mi raccomando Ti parla Sono morta di sor Ci si chiesa Ah si Già un pelo piuttosto La c***a di migliore La c***o di migliore L'ho fatto Mamma mia ragazzi Che c***o di win La c***o di win La c***o di si porta a casa Let's go La cosa bella Che è quello lì Volevo già sparare Perché ho visto che era pieno di kit No 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 Non devi perdere tempo con i kit Però esatto Esatto Bravissima Bravissima Let's go raga Let's go Che c***o hai fatto Kik è il primo Oggi ho fatto una final bellissima Cioè Mamma mia 10-10 10-10 win 200 points Let's go Comunque like l'hai preso Kik è e l'hai vinta con like No no Io ho detto Io nel like sono un mostro Cioè lo so tenere bene Ed è anche più facile da tenere Perché non hai i fist Bene ragazzi Abbiamociato il termine di questo fantastico video Io non vi nego ragazzi Che sono davvero felicissima Di essere riuscita a fare una bellissima vittoria In solo cash cup E non tanto per i 100 dollari Ma tanto appunto per la gloria Perché questo mi dimostra Che effettivamente sto migliorando Quindi la mia dedizione E tutti gli allenamenti Stanno portando i suoi frutti E di questo ne sono davvero felici Felicissima E sono anche felice del fatto Che mentre che ero in live Ho visto tanti di voi Che eravate super gasati E mi davate un'energia Veramente incredibile Perché facevate tutti il tifo per me E di questo ragazzi Ve ne sono davvero grata Perché mi avete dato una carica Che non ve lo posso davvero spiegare E quindi di questo Vi ringrazio tantissimo Ovviamente ci devo ringraziare Anche la Sionina qui in Giorgio Perché è stata veramente Un coach impeccabile Mi ha fatto concentrare Al 100% nella partita Senza dovermi preoccupare Dei minimi dettagli Quindi i meriti vanno anche a lei Però ragazzi Questo è soltanto l'inizio Continueremo a martellare A più non posso E a dare ogni giorno Sempre del nostro meglio Quindi ragazzoni Mi raccomando Se questo video vi è piaciuto Lasciate subito un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Però adesso noi ci dobbiamo salutare Ma non vi preoccupate Che ci vediamo chiaramente In un prossimo video Dalla vostra Croato Miss è tutto Bella a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti